se dovessi descrivere il tratto del sentiero italia che attraversa il trentino alto adige con una sola parola userei sicuramente il termine imperdibile direi semplicemente fantastico fantastici sono stati i panorami che ho potuto ammirare fantastici sono stati i rapporti con le persone che ho incontrato lungo il cammino fantastici sono stati anche i monumenti che ho potuto visitare in questo tratto perché consiglierei di fare le tappe del sentiero italia che attraversano il trentino alto adige molto semplice perché ci sono le dolomiti direi semplicemente per i luoghi che attraversa teniamo presente che partiamo dal gruppo dell'ortles cevedale per poi passare ai gruppi più blasonati come il latemar il cattinaccio puez per poi non dimenticare anche il lago rai e la cima d'asta luoghi che non serve non serve descriverle riscrivere la loro bellezza quindi penso che questi luoghi meritano veramente di essere visitati